Simulink di MetaWorks è un tool per la progettazione di software basata su modelli. Oggi desidero mostrarvi quanto sia rapida e semplice l'integrazione di modelli Simulink nel programma di comando del vostro controllore Simatic. Per questo motivo vi ho portato un semplice modello Simulink. È composto da un regolatore PID con i suoi parametri di regolazione, quota PID e da un sistema di regolazione PT3. Il comportamento di regolatore e sistema può essere simulato e visualizzato in modo molto semplice in Simulink, per esempio con una sonda. Qui basta fare clic sul tasto Play e Simulink calcolerà il comportamento dell'intero sistema di regolazione. Dopo aver controllato il comportamento del vostro sistema di regolazione con Simulink, potete integrare il regolatore nel vostro programma di comando. A tale fine vi ho portato un modello semplice che contiene solo il regolatore PID. Il modello presenta tre ingressi e tre uscite. Da una parte gli ingressi per il valore teorico e per la grandezza di processo e l'uscita per la grandezza regolatrice. Per portare il tutto sul controllore Simatic in fase di elaborazione, occorre selezionare nelle impostazioni di sistema il file target di sistema corrispondente. A tale fine passiamo all'area Code Generation. Qui è possibile visualizzare il System Target File. Ora il coder Simulink è selezionato come target. Una volta installato il Simatic Target 1500S, esso si trova anche direttamente nella finestra di selezione come System Target File. E adesso posso eseguire diverse impostazioni di modello. Per esempio posso attivare l'External Mode. Con External Mode è possibile osservare i valori di processo del vostro programma applicativo direttamente in Simulink. A tale scopo passo all'area Interface, dove seleziono External Mode. Qui dovrò solo indicare l'indirizzo IP adatto del mio comando, ossia 101.15. Inoltre, nell'area Target 1500S Options, ho opzioni specifiche del target. Per esempio, qui si può attivare l'accesso ai parametri dal programma S7. Di conseguenza, è possibile accedere direttamente ai parametri del modello dal programma applicativo e modificarli con il sistema in funzione. Per generare il codice per il modello, basta fare clic sul tasto Build Model. Simatic Target 1500S genera, tramite il coder Simulink, il C-code e da questo C-code si generano moduli integrabili direttamente nel programma applicativo. Ai file generati si arriva tramite il link Outputs. Qui vi sono due file. Da una parte, la sorgente SCL, importabile nel portale TIA. Dall'altra, un cosiddetto file SO, caricabile tramite il web server del vostro comando. Pertanto, passo al portale TIA. Qui ho già elaborato un progetto in cui vi è un ET200SP Open Controller. In questo Open Controller sono presenti un paio di moduli IO, nonché il controllore software e un HMI Runtime. Troverete esattamente lo stesso nella mia valigetta demo ET200SP Open Controller con i moduli IO. Al di sopra, uno schermo che mostra il desktop Windows dell'Open Controller. Come potete vedere, il software controller è in funzione nello stato operativo RAM. Il prossimo passaggio sarà l'import della sorgente SCL. A tale scopo passerò al controllore software nella cartella External Source Files e qui selezionerò la sorgente SCL generata. Dopo aver importato la sorgente SCL, devo ancora generare i moduli. Dopo aver generato i moduli, posso integrare nel mio programma applicativo. Normalmente, il regolatore è richiamato in un programma ciclico. A tale fine, ho già preparato un OB di ciclo in cicli da 100 millisecondi. Qui vi sono da una parte la simulazione del sistema di regolazione e dall'altra aggiungerò ora il mio modulo di modello Simulink. Il modulo generato ha lo stesso nome del mio modello Simulink, con l'aggiunta di One Step. Attraverso la funzione Drag & Drop, trascinerò il modulo nello OB di ciclo, confermerò la generazione di un nuovo DB di istanza e potrò impostare il modulo con i valori di processo. Per semplicità, ho depositato i valori di processo in un DB. Posso visualizzare entrambi gli editor parallelamente, in modo da poter collegare i miei valori di processo con il mio modulo di modello attraverso la funzione Drag & Drop, il valore teorico, il valore di processo, la mia grandezza regolatrice e lo stato del mio modulo. Per utilizzare l'External Mode, devo aggiungere un modulo a parte al programma. Esso si chiamerà proprio come mio modello, PED Model e Call Ext Mode. Trascino anche questo modulo tramite la funzione Drag & Drop nel mio OB ciclico. Confermo la generazione di un DB di istanza e devo solo attivare qui, tramite una variabile o con codifica fissa, l'External Mode. Adesso posso caricare il programma applicativo nel comando. A tale fine farò clic sul tasto Download. Adesso il programma viene tradotto e può essere caricato nel programma. Passando al comando Online, posso controllare subito se il mio download è riuscito e se posso istituire un collegamento online al comando. Come potete vedere, l'intero programma è caricato nel comando in modo coerente. In seguito, è necessario caricare il file SO sull'Open Controller attraverso il web server dell'Open Controller. Ciò avviene nel browser web tramite il web server della CPU. Pertanto, passo al browser web, seleziono nella sottocartella ODK-MID500S il mio file SO e lo carico. Il file SO si trova pertanto nella memoria della CPU. Tramite un passaggio Stop Start al comando, il file SO è caricato nella memoria di lavoro del comando e pertanto è eseguito direttamente. Posso vederlo anche nel portale TIA attivando l'osservazione nel mio OB di ciclo. In questo modo, posso vedere i valori delle mie variabili di processo nell'editore dei moduli. Posso visualizzare questi valori di processo anche in Simulink. A tal fine, passo al modello, apro la scope e devo attivare l'external mode tramite la funzione Connect to Target. Così posso vedere, anche nella scope Simulink, i valori di processo dal comando. Per mostrarvelo più nel dettaglio, posso anche immettere nel portale TIA un salto di valore teorico. A tal fine, sposto leggermente il portale TIA sul lato e tramite la funzione Controlla variabili definisco il valore teorico, per esempio, su 80. Vedo subito nella scope come si modifica il valore teorico su 80 e come il valore regolante aumenta in modo naturale. Posso però anche modificare direttamente i parametri nel modello Simulink. A tale fine, passo al regolatore PID. Voglio mostrarvelo sull'esempio del limite di valore regolante superiore che qui abbasso da 100 a 30, per esempio. Vedo subito nella scope che il valore regolante scende a 30 e anche sul mio modulo regolatore nel comando il valore regolante è sceso a 30. Perché il mio regolatore rimanga come desiderato imposto nuovamente il valore su 100. Pertanto il mio regolatore rimane come l'avevo progettato inizialmente. Naturalmente posso anche visualizzare i valori di processo direttamente sull'Open Controller avviando l'HMI installato sull'Open Controller. Qui ho introdotto un trend controller esemplare che mostra in tempo reale i valori di processo direttamente sullo schermo. In questo modo vedrete quanto sia semplice integrare modelli Simulink in un programma S7 con Target 1500S. Potrete pertanto utilizzare anche la progettazione di software basata sul modello senza conoscenze su C++ o ODK con Simulink e Simatic. Comunica S8 Isadora Grazie a tutti